Ho trovato una lampada del Signore degli Anelli, bellissima. Ragazzi, praticamente sai la scena del barro, Gandalf? Quando sono sul ponte? C'è Link? Sì, te la mando. Grazie a tutti. 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 21 per 32 per 32. E' un 1 a 6 un po' oltre. Sì, ma la prendo piuttosto su eBay a 35 euro. Tosto. Tornato. Cazzata. Invece sì. E' giusto. Ah, la bottega del Neld, dicevi, ma è sulla bottega del Neld. C'è? Sì, ah, è questo sito. Ah, c'è anche, c'è anche su Amazon, quella statua lì, a 260 euro. Interessa. Il barroco è proprio bigo. Sì. C'è anche, c'è anche il fondo, se ti interessa il barroco. 44 euro. Ah, Leo. Vieni, va qua. Ah, il flay ha bastardo. Oh, vai, cazzo. String, manca te, cazzo. Adesso, ma tu devi sentire la live di sera. Tu devi ruffi, che ne dicevi. Sembra un granato. Grazie. No. Eh? No? Sto parla? No. Questa tuette, cazzo. Questa tuette... Va a benedire, cazzo... Doe... Cazzo... Toczo... Cazzo... Devo en... Cazzo... 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 A presto. 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 dovremmo giocare anche l'uno ma quanti si può giocare? ma prendetelo anche voi ok, c'è ok ok, c'è giù? no no Sì Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Yeah. Oh. Grazie a tutti.